non è star academy non è io canto non è x factor no e che cos'è si chiama talenti scouti la nuova idea del carletto show per scoprire nuovi artisti se ti senti pronto ad esibirti davanti alle telecamere attore cantante musicista ballerino animatore dj insomma fai uscire l'artista che in te iscriviti sulla pagina facebook di carletto oppure scrivi a carletto romeo chiocciola gmail.com dal 26 ottobre ogni mercoledì alle 21 su tele radio sud talenti scouti io mi scrivo